Voto è un sistema di votazione a distanza, progettato per funzionare in Internet. Serve a votare in rete. Si inseriscono le proposte in un sito web, in modo che possano essere votate online, per mezzo di un computer, oppure tramite un cellulare, oppure ancora in un'aula, per alzata di mano. Votare è facile come leggere un messaggio di posta elettronica. Si riceve un messaggio con le opzioni di voto, si clicca sull'opzione desiderata. Fine. Quando le votazioni si chiudono, si ricevono i risultati. Semplice. E sicuro. La correttezza del voto è garantita dal fatto che, quando si vota, oltre all'opzione di voto, il sistema invia anche una chiave casuale monouso, legata al singolo utente, e al singolo voto. Un sistema di controllo verifica che la chiave sia corretta, e quindi la annulla, in modo che non possa essere riutilizzata. Se un utente cerca di votare due volte, o al posto di un altro, il sistema lo blocca. Le sessioni di voto, le proposte e i risultati delle votazioni sono consultabili in un apposito sito web. Naturalmente, ogni organizzazione ha il proprio sito. Quando si chiude una votazione, i risultati sono immediatamente disponibili. Basta aprire la pagina della proposta, dove si può leggere il testo definitivo, il grafico e la tabella con l'esito del voto. Inoltre, ogni chiusura genera automaticamente un file scaricabile, contenente i risultati e l'elenco dei votanti. In questo modo, ognuno può crearsi il proprio archivio. Il sito è disponibile anche in una versione speciale per dispositivi mobili, tablet e telefoni cellulari. Lo status di una proposta è rappresentato da un simbolo colorato. Viola, in preparazione, i promotori la stanno scrivendo. Blu, la proposta è in discussione, ad esempio in aula o in un forum. Verde, la votazione è in corso. Rossa, la votazione si è chiusa e i risultati sono disponibili. Arancio, la proposta è da emendare. Nera, la proposta è stata ritirata. Gli amministratori del sito hanno due compiti. Registrare gli elenchi dei votanti e gestire le proposte da mettere ai voti. Gli utenti possono essere inseriti manualmente oppure importati in blocco da un file Excel. Poi gli utenti sono da inserire in una o più liste di voto, con una procedura di copia e incolla. Le proposte da votare saranno inviate agli iscritti di una determinata lista. Ogni votante può essere iscritto a più liste, che possono essere create dagli amministratori, semplicemente dandogli un nome. Nel sito di voto, gli amministratori possono inserire o modificare le proposte. Per ogni proposta, oltre alla descrizione, si imposta una serie di parametri, tra i quali tre sono essenziali. Le opzioni di voto La lista dei votanti E lo stato della proposta, facendo una certa attenzione, perché dopo che una proposta è messa in votazione, il suo testo non può più essere modificato. Nel pannello, l'area del testo non è più disponibile, e non si può tornare in uno status precedente, in quanto il testo deve rimanere identico a quello inviato con l'invito al voto. Quando una proposta è in votazione, l'amministratore può cliccare il pulsante di invio dell'e-mail, così ogni votante riceve le opzioni e può votare. Oltre al voto per e-mail, è possibile anche il voto in aula per alzata di mano. In tal caso basta inserire il nome dell'aula e il numero di voti per ogni opzione. I voti per e-mail e quelli in aula si sommano. Quando si chiude una votazione, non si possono più fare modifiche, neanche dello status, per cui il pulsante di modifica scompare. Stesso discorso con le proposte annullate. Dopo la chiusura, si può inviare un e-mail a tutti i votanti, con i risultati della votazione. Quando una proposta è ancora in discussione, si possono aggiungere degli emendamenti, mettendole in stato arancio. Gli emendamenti si votano allo stesso modo delle proposte. Una proposta in stato arancio non può entrare in votazione finché tutti gli emendamenti non sono stati votati. Solo quando gli emendamenti sono tutti in stato rosso, quindi chiusi, la proposta può essere messa in votazione.